Eh, se facessimo tutti così... Aumentano gli agenti immobiliari che si pongono questo crucio, in merito al metodo NoFi, provvigione soltanto dal venditore. Eh, ma sai, i miei clienti non capirebbero. Tu, venditore, pretendi la massima attenzione per i tuoi interessi per ottenere il miglior risultato. L'acquirente sceglie l'immobile, non me che lo gestisco. Perché chiedere la provvigione all'acquirente come fanno gli agenti immobiliari tradizionali? Trovamene uno che è felice di pagarla. In Italia, che siamo furbi, arriviamo a gestire a malapena il 60% delle compravendite. In Francia, Inghilterra e Stati Uniti, la provvigione è unilaterale. Lì le agenzie immobiliari ne controllano più del 80%. Eh, se facessimo tutti così come loro, americani. Caro collega, sveglia. Là fuori c'è pieno di clienti che aspettano di essere trattati con i guanti. Questo è il metodo No-Fee. Ti ho incuriosito? Contattami.